L'Asde è imperiese di nuovo al centro della bufera. Da un lato impazza il toto direttore generale e dall'altro lato tutti i sindacati sono sul piede di guerra e hanno proclamato lo stato di agitazione. Il mandato del direttore generale Mario Cotelesse è ormai agli sgoccioli, ma quanto sembra la giunta regionale guidata da Giovanni Toti non avrebbe ancora le idee chiare circa la sua sostituzione. Era stata avanzata l'ipotesi di un commissariamento dell'Asde da affidare all'ex presidente della provincia Gianni Giuliano, ma sempre seconda indiscrezione, lo stesso Giuliano non avrebbe dato almeno per ora la sua disponibilità. Sul fronte invece della possibile nomina del nuovo direttore generale, i nomi che riecheggiano nei corridoi sono quelli di due dirigenti della stessa Asde imperiese, Michele Orlando, già direttore sanitario ai tempi di Renata Canini, e Marco Prioli, già direttore amministrativo anche lui ai tempi della Canini. Proprio tutte queste incertezze unite ai problemi di organico e alla poca chiarezza circa la riorganizzazione generale delle Asde hanno portato tutti i sindacati imperiesi a proclamare lo stato di agitazione.